Roger Federer e io abbiamo molto in comune. Lui ha fatto grandi cose. E anch'io ho fatto molte grandi cose. Cioè noi. Ah, entrambi usiamo la rete 5G di Sunrise. Così possiamo navigare, giocare online, guardare le serie in streaming e la TV contemporaneamente. Finalmente. Internet super veloce e TV tramite il 5G o la fibra ottica a soli 55 franchi al mese. Ora nei Sunrise Shop.